Sarà un post Ferragosto importante dal punto di vista anche degli artisti e dei concerti, due nomi importanti. Sì, avevamo voluto mettere in campo un calendario importante per dare questo segnale di ripartenza e di rilancio. Abbiamo preparato la città nel migliore dei modi, proprio per essere una destinazione che trasmettesse quella gioia, quella festosità e quella ospitalità e accoglienza che è tipica del nostro territorio. Tantissimi eventi, oltre 160, che vedono il culmine qualitativo a livello musicale con due grandissimi artisti in generi diversi che abbracciano varie generazioni e sono appunto Enrico Ruggeri il 16 di agosto e Fred De Palma il 19. Quale sarà lo scenario e le modalità di accesso? Lo abbiamo voluto in un luogo bellissimo della nostra città perché quello era l'obiettivo. Tantissimi eventi li abbiamo fatti per valorizzare i luoghi e abbiamo scelto Piazza Belvedere e Piazza della Libertà. Il rispetto ovviamente sarà quello delle normative. Si potrà entrare con il Green Pass. Abbiamo delle convenzioni con la farmacia adiacenti appunto agli ingressi che potrà permettere a chi non ha il Green Pass di fare i tamponi e quindi accedere piacevolmente all'evento. Città di Giulianova che nonostante la pandemia mantiene attivo a questo modo di essere protagonisti durante l'estate. Sì, avevamo un obiettivo, un obiettivo ambizioso, un obiettivo importante. Abbiamo messo in campo tutte le risorse, tutte le energie anche grazie ai lavori della consulta del commercio, della consulta del turismo. In primis abbiamo creato la City Ambassador Giulia che accoglie dal benvenuto il City Express, se il trenino di Giulia abbiamo riaperto la Pinacoteca ovviamente per la cultura. È stato un lavoro di squadra che coinvolge tutta l'amministrazione e ovviamente tutti quelli che sono gli operatori commerciali, turistici ed economici della città.